Caro Zione, o forse dovrei chiamarti papà. Vabbè. Caro Nicola, alla fine siamo arrivati. Ogni tanto mi sembra di riconoscere i posti che mi hai raccontato quando ero bambino, ma forse è solo suggestione. È bello fare le cose con le persone che ami, anche se ogni tanto Ermione vuol fare come dice lei e cambia programmi in continuazione. Ho convinto Ermione a prendere un passaggio da un postale che porta a Caponordo. Ha una fifa matta, però risparmiamo tre giorni di viaggio. Noi, non mi sembra di più. Noi, non mi sembra di più. Noi, non mi sembra di più. Sto qui a guardare il sole di mezzanotte che scende fino all'orizzonte, ma poi si ferma e non entra nel mare. Penso a mio padre, penso alla mamma e penso a te, che mi hai sempre detto che tutto è bello. Mi sa che avevi ragione. Tutto è veramente bello. Il Vito È 5 o'clock e vi passo per le strade fonte pensi che mi fanno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti